a tutti bentornati una nuova puntata del te artistico io sono angela e questa è la mia amica sarà allora come promesso siamo alla seconda parte della vita di caravaggio quella tragica siamo rimasti alla chiesa di san luigi dei francesi per la quale caravaggio dipinge le prime opere pubbliche e le prime due fra il 1599 il 1600 e un'altra un paio d'anni dopo ti ricordi che persona mi porto via il microfono le prime due esattamente sono la vocazione di san matteo e il martirio di san matteo e qui niente nessun problema potremmo dire no lì tutto liscio come l'oglio la terza opera quella che ha indicato la sara è del 1602 e il baglioni il biografo che poi a caravaggio non neghi gli facesse tutta questa pubblicità benevola afferma che la prima opera del mai lisi più rifiutata in realtà nel 2000 si è scoperto con spezzaferro che questo cambio era già in programma quindi che l'opera di l'angelo e san matteo la prima versione era praticamente quello che noi potremmo definire oggi tappabuchi mentre aspetto che l'artista completi la seconda versione quella che io voglio gli do tutto il tempo del mondo perché la voglio fatta bene nel frattempo ci metto un'opera così sempre fatta da lui però provvisoria infatti era una sostituzione preventivata esatto infatti c'erano due opere sono due opere di san matteo e l'angelo la prima è andata perduta c'è soltanto una foto mi pare la seconda invece ancora esistente sempre di questo periodo qui poi quindi coevo il periodo nel 15601 sono altre due opere commissionate dal tesoriere papale di nome tiberio cerasi questo tesoriere ha commissionato almerisi la vocazione di san paolo e la crocifissione di san pietro allora siamo a roma con uno sistema iconografico rigido quindi più di quello tu non devi fare più di quello non ti è richiesto bene voi come ve l'immaginate una vocazione di san paolo come l'ha visto invece caravaggio per terra l'ha scaramentato al suolo a braccia aperte così tipo colgorato e il primo effettivamente che riceve questa illuminazione divina è il cavallo e quindi san paolo se non sai che san paolo lo dai per uno che è caduto da cavallo accidentalmente disarcionato e deve stare anche attento a non essere a suo pistato da suddetto cavallo esatto la crocifissione di san pietro poi la crocifissione di san pietro allora come se ci fossero praticamente questo povero uomo crocifisso a testa in giù come se fosse un palo e degli dei lavoratori dell'ase tirano su un palo invece questo senza nessun senza nessuna emozione soltanto una cosa meccanica tra cui prendo una corda la leggo suddetto palo e tiro ecco questo è praticamente quello che rappresenta caravaggio cioè delle persone prive di emozioni che sono lì soltanto perché devono fare quella cosa e sollevano san pietro come se fosse un pingo pallino qualsiasi trovato per strada niente di più si mancano soltanto i i giubbotti arancioni con i catari frangenti praticamente ecco questo è caravaggio sì perché comunque caravaggio come diceva il bellori all'epoca il bellori non era un critico diciamo che non è che lo apprezzasse molto infatti lo considerava incapace di estrarre il bello dalla natura però questo era il pensiero dell'epoca pensiamo alle opere della roma fine cinquecento primi seicento è chiaro che dovevano essere tutte le non dico barocche ma quasi ed arriva questo che invece praticamente riprende i lavori in corso è chiaro che il bellori non è che fosse troppo d'accordo e come pensiamo la musica lirica e poi ti arriva il rock quindi caravaggio incomincia però ad esprimere le sue emozioni quindi le opere le figure i personaggi di caravaggio emergono dall'oscurità esatto come se fosse l'oscurità stessa a dargli forma a dargli plasticità e l'iconografia come abbiamo visto da qui in avanti continuerà ad evolversi come contrasti luce e ombre tanto è che sarà difficile per un pubblico di allora definire che quel personaggio è la virgine maria che è un santo e invece non si non si tratti del vicino di casa queste opere verranno criticate e rifiutate dal pubblico ed ecco i tenti stessi in particolare due opere che sono la madonna palafrenieri e la morte della vergine fra l'altro la madonna dei palafrenieri siamo intorno a 1605 1606 perché non piacque probabilmente perché caravaggio dovette tenersi ad un programma iconografico piuttosto rigido praticamente i piedi i piedi del bambino dovevano stare sui piedi di maria questo per dire che la forza di schiacciare il serpente doveva venire da dio non da maria maria era soltanto un mezzo il potere arrivava dall'alto esattamente ma se guardiamo poi alla fine riconosciamo che si tratta della madonna soltanto per chi ha una aureola intorno alla capezza che viene chiamata da alcuni critici le aureole di caravaggio le fedi dei poveri perché erano questi fili dorati molto sottili esatto tanto per dire questa è la madonna vedete di non la morte della vergine la morte della vergine assolutamente teatrale la potremmo definire quasi barocca con questo drappo della cornice russo sì però raffigurata la persona la ragazza la donna raffigurata a occhio se non sappiamo il titolo non ci fa venire in mente la vergine perché abbiamo questo corpo abbraccia allargate e si vede che è un corpo magari è da giorni che è morto tutti che la compiangono ma potrebbe essere anche c'è una scena normale di vita di tutti i giorni con una persona di tutti i giorni ma io sapevo che secondo alcuni poteva essere una prostituta trovata nel tevere però è una cosa che si dice ecco non sono sicura che sia veramente così quelle leggende metropolitane la sicurezza che sia così non c'è anzi molti dicono che non sia vero però mettiamola al 50 per cento col punto di domanda un'altra opera che a me personalmente piace e che mi fa morire perché come quanto io vado a trovare per esempio mia cugina quindi vado a trovare mia cugina suono e lei apre io sono davanti all'uscio di casa ecco questa è la scena che viene raffigurata nella madonna dei pellegrini o madonna di lorito è il problema è che ci fu un po di schiamazzo ecco per quest'opera perché uno dei pellegrini viene rappresentato con i piedi belli sozzi de fango e l'altro invece viene rappresentato con il con la cuffia sporca ecco io spero che la tua cugina tu ci vada un po' meglio ecco adesso non a questi livelli dai però il senso è quello hai capito quando vai a trovare qualcuno senza preavviso e ti presenti mi fai un caffè e poi ci combina caravaggio grazie